Il Black Friday di Improve Your Mix è iniziato e con un'offerta imperdibile. Tutti i videocorsi a soli 29,90€. Con questa offerta su alcuni videocorsi risparmi fino all'84% e solo fino alla mezzanotte di domenica 19, acquistando 4 videocorsi, potrai partecipare gratuitamente ad una masterclass di Salvatore Addeo. Affrettati, proponiamo queste offerte solo una volta all'anno. L'offerta non è valida per il videocorso da zero hit, l'immagine stereo, corso one to one e consulenza personalizzata.